Giovane coppia, ma nuovi piccoli amori stanno nascendo. Berico è un ragazzo davvero, davvero molto intelligente. Di no, mi piace il carattere. C'è una risata che mi fa troppo ridere. Una bella bellezza. Anche con lui c'è, sto bene. Nel complesso è una bella ragazza. Ma per scatenare le gelosie basta poco. Anche un solo sguardo. Sei sempre a guardare lei. Te non ti guardo mai invece. No, mi guardi ma di meno. Di meno. Federico sta sempre dietro a Noa. Ma secondo me la prende in giro. Perché? Perché quando guarda Maddalena si mangia proprio con gli occhi. Una strofa di otto versi si chiama... Sarà il mio pensiero? Eh sì, mi sa che è il tuo pensiero. Infatti. Io la penso diversamente. No, non fare quella faccia. Che faccia devo fare? Questa è la mia faccia? Se non ti va bene così, non lo so. È vero, cioè, me ne rendo conto anch'io. Alzo lo sguardo e c'è Federico che mi guarda. Le ragazze tutte mi hanno detto che comunque tu sei sempre attaccato e guardi Maddalena. Quando Elisabetta mi viene vicino e dice Ma tu hai visto come Federico guarda Maddalena? Aspetta, allora non sono io che penso questa cosa. Ma il fatto di guardare cosa c'entra? Non è solo il guardare. E cos'è? Sei sempre insieme a lei. Ma sempre e quando? No, ma adesso... No, perché a me questa cosa mi dà fasilia. Adesso tu mi dici quando. Sempre e quando? Cazzo, a tavola ce l'ho di fronte. Oggi in sala ricreativa mi sono seduto con lei, ma sempre e quando? Ma sempre e quando? Perché oggi sono stato tutto il giorno con te. Pomeriggio l'abbiamo passata in sala ricreativa. Ma la guardi come se fossi innamorato? Ma la guardo perché è bella, ma te l'ho detto anche a te. Non è che ho problemi a dirlo. Cioè, non è che ho problemi a dirlo. Se ci fosse Belen Rodriguez non la guarderei qua. Cioè, perché la guarderei? Eh, allora... Poi ti dico una cosa, se te la pensi così, vai avanti a pensarla così. Se ti fidi bene, se no io non so cosa dirti.